Cala la produzione di riso in provincia di Pavia e in tutta Italia, a favore di coltivazioni come soia e mais in molti casi, più gestibili in tempi di siccità e di aumento dei prezzi delle materie prime, è quanto emerge da un report di col diretti secondo cui nel 2022 a livello nazionale i campi coltivati a riso passeranno dai 227 mila ettari del 2021 a 217 mila, 10 mila in meno. La provincia di Pavia, prima produttrice di riso in Europa con 80 mila ettari coltivati e 1500 aziende attive nel settore, non fa differenza, migliaia di ettari di terreni saranno seminati con altre colture. Ad innescare quello che l'associazione definisce come uno scenario preoccupante, due fattori concomitanti. Da un lato la guerra in Ucraina, che ha provocato aumenti dei costi energetici e delle materie prime, come per esempio i fertilizzanti. Senza precedenti, più 170% per i concimi e più 129% per il gasolio. Dall'altro la siccità, che sta colpendo duramente il settore primario. Il riso infatti, spiegano gli esperti, necessita di grandi quantità d'acqua per l'allagamento dei campi, mentre altre colture, come appunto soia e mais, che pure ovviamente hanno bisogno di molta acqua, permetterebbero di gestirla meglio nel tempo dell'accrescimento. Sullo sfondo, il tema dell'approvvigionamento alimentare nazionale, il crollo della produzione di riso, secondo l'associazione agricola, avrebbe un impatto drammatico su un settore strategico per l'economia di un paese, dove si raccolgono un milione e mezzo di tonnellate di risone all'anno, oltre il 50% dell'intera produzione UE, con una gamma varietale unica fra le migliori a livello internazionale. Si torna dunque a parlare dell'urgenza di sottoscrivere contratti di filiera che permettano un'equa distribuzione del valore lungo la catena di produzione, ma anche di ottimizzare l'uso dell'acqua.